Al Museo del Tartufo di Acqualagna durante i giorni della 59esima Fiera del Tartufo Bianco Pregiato e nel cuore della settimana da capitale della cultura della stessa Acqualagna, la Regione Marche ha premiato i 12 comuni marchigiani, i cui progetti sono risultati vincitori del bando dedicato allo sviluppo di pianificazioni urbane e comunali nelle aree interne. Oggi siamo ad Acqualagna che in questa settimana non solo celebra la 59esima Fiera Nazionale del Tartufo Pregiato ma è anche capitale italiana della cultura e quindi non possiamo che parlare di qualità e di interventi che innalzano la qualità dell'attrattività dei nostri territori in tutte le marche. Oggi premiamo 12 comuni marchigiani dove verranno investiti circa 9 milioni di euro. Per ogni progetto vincitore il bando erogava un massimo di 750 mila euro e a risultare premiati sono stati i comuni di Sassoferrato, Loro Piceno, Camerino, Sant'Angelo Invado, Urbagna, Pergola, Sefro, Fabriano, Cantiano, Smerillo, Montefiore dell'Aso e naturalmente i padroni di casa di Acqualagna. Il progetto è la ricostruzione del vecchio mercato coperto del tartufo costruito negli anni 60 con il contributo dell'ente di sviluppo delle marche che doveva essere il luogo di commercializzazione del tartufo. Oggi può diventare invece il luogo dove si sposa cultura e gastronomia quindi un elemento di caratterizzazione per un nuovo turismo che insieme alle altre realtà locali sicuramente ci porterà lontano. Grazie. Grazie.